Allora, io adesso penso invece che detto questo e quindi bisogna rispondere, io credo anche abbastanza seccamente, a queste fandonie, noi dobbiamo concentrarsi con un discorso serio sulle questioni di fondo. Una delle questioni di fondo è questo tema, certamente, della sanità. Noi abbiamo un'inevitabile passione per questo tema, l'abbiamo sempre frequentato, le nostre culture hanno prodotto tutto sommato le esperienze migliori. Anche in queste elezioni noi candidiamo una sorta di dream team, no? Il campo sanitario. Perché siamo inevitabilmente legati a questo grande tema? Perché abbiamo una visione umanistica solidale della società, punto. Per cui noi abbiamo una condanna, non è neanche da discutere, io l'ho sempre detto, cioè il fatto di concepire che su temi come la scuola, la salute, l'istruzione, la salute, la sicurezza, non possa esserci né povero né ricco. E che per noi siano sistemi universalistici, non è un'opzione politica. È un dato intrinseco e costitutivo di un partito progressista, riformista, punto. Quindi noi questa cosa la affermiamo, questo universalismo che ribadiamo qui, diciamo qui intanto come un connotato profondo, antico, che deriva dallo stesso sentimento con il quale siamo entrati in politica. Cioè l'idea della comune umanità di tutti gli uomini, di tutte le donne del mondo. E quindi una valutazione, un'idea, se volete un ideale, che non può prescindere dall'uguaglianza davanti a temi basici della condizione umana.